Ciao, ed eccomi con un nuovo video. Ciao, e quindi con un nuovo video, visto che sono qui dei miei, ho detto vabbè faccio oggi un video, e ho visto questo video tag io il mio amico peloso, dato che nella nostra famiglia c'è lei, si chiama Rosy, e ho detto vabbè proviamo a fare questo video con lei, con la nostra soccolina, anche se lei sarebbe il più il cane dei miei, però io e i miei fratelli ci siamo molto affezionati. Allora, andiamo con le domande. Allora, come si chiama? Si chiama Rosy. Che animale è? Che razza è? Vabbè, un cane è un Jack Russell incrociato, come un bastardino. Per quanto tempo ce l'hai? Se non mi ricordo male, lei fa parte della nostra famiglia, da sette anni, insomma è un po' grandiciata la signorina, un po' vecchiazza. Vabbè, io lo seguo in strada perché a lei piace stare sdraiata per terra, sente il calore dove passano tubi di riscaldamento, e lei si sdraia lì sicuramente tutto il tempo, e riscaldarsi la pancia. Quanto tempo ce l'hai? E come l'hai avuto? Allora, praticamente la sua studia, lei è stata adottata. Sì, praticamente il mio fratello, più grande, ha trovato online un annuncio di un'associazione di protezione dei cani, di un canile di Napoli, in cui cercavano padroni per i cani abbandonati. Il fratello ha visto l'ha fatto e se ne è innamorato. Praticamente da Napoli, con il treno, l'hanno portata a Roma e l'hanno consigliata a mio fratello, che poi l'ha data ai miei genitori, quando poi lui si è andato di casa. E quindi lei è rimasta sempre con i miei genitori, praticamente vive in simbiosi con loro. E la sua storia è che ci hanno raccontato, praticamente lei era stata abbandonata dai padroni e buttata in un cassonetto. Eh sì, è stata lei nata. C'è chi nasce nel cavolo e chi nasce nell'immondizia. E' stata buttata nell'immondizia. Sfortunatamente è stata salvata e portata a questo canile che ogni anno, non mi ricordo adesso il nome del canile dell'associazione che si occupa, però ogni anno so che praticamente cercano dei padroni online da tutta Italia per far adottare i cani e loro li consegnano a loro spese. Quindi mio fratello ha letto questo annuncio e l'ha adottata. Quanti anni ha? Come ha detto lei è grandicella, non è più diciamo fresca, non è più una signorina. Racconta qualche sua stranezza. Vabbè è tutta strana. Come ha detto? Vabbè è tutta strana. Vabbè lei è praticamente innamorata di mio padre. Lei riconosce la macchina a distanza, quando si avvicina, fa dei salti. Quando ha fame fa dei salti di meno due metri quando vuole giocare. E praticamente, talmente innamorata di mio padre, lei è femmina, non ha quindi il pisellino, che tutte le volte lei si struscia sulla gamba di mio padre come se fosse come fanno i cani maschi. e lei è femminuccia. Quindi non so se c'è qualcuno che è esperto di cani e mi sa dire perché fa così. Forse è una lesbica inside. È un cane transgender. Cosa significa per te il rapporto con lei? Beh io ho detto che ultimamente la vedo poco perché vivo a Milano. Prima ci vediamo di più. Però per esempio quando è venuta a Milano con i miei, vi vedo anche lei perché i miei sono stati un mese con me e non la lasciano perché così tanto tempo. Magari uno o due giorni la lasciano a uno di miei fratelli, ma per un mese non se la sentivano di lasciarla e anche perché lei avrebbe sofferto la lontananza dai miei genitori. Quindi se la sono portata. Quando è venuta a Milano me la sono goduta perché non avendo un cane, un appartamento piccolo, quindi la portavo fuori tre volte al giorno, la mattina, pomeriggio, sera. Mi sembrava di avere un cane. Una cosa molto carina è che lei ogni volta che torno mi fa tante feste e mi pisce addosso regolarmente. Tutte le volte che pisce addosso. Perché mi fa le feste e mi segna il suo territorio. Così io pulso di piscio tutte le volte. Poi vabbè, come tutti i cani, lei ha paura dei fuochi d'artificio. Infatti non mi dico per capodanno quello che ci ha combinato, che piscia sempre dappertutto, andate tutti i botti. Poi praticamente, come tutti i cani, hanno paura dei fuochi d'artificio, di queste grandi esplosioni che sono terrorizzati. Lei stava nascosta in un angoletto tremando. Infatti noi non abbiamo praticamente esploso o niente, si farà un fuoco d'artificio o cose perché lei era terrorizzata. Comenti più belli insieme. Comenti più belli insieme, vabbè, quando è venuto un mese a Milano, poi vabbè, tanti tanti viaggi che abbiamo fatto insieme, quando andavo a trovare i miei parenti a Napoli ce la siamo portata. Poi è venuta praticamente dopo un po' che mi era morto il cane che avevamo prima, che era un volpino. Dopo quando questo è nato praticamente abbiamo sempre avuto animali, sempre i cani. Mi ritengo fortunato perché appunto mio padre ha mai animali e abbiamo avuto pappagallini, coniglie, anche un'oca e i cani, sempre i cani. Che sovranomea? Zoccola. Perché lei non ha zoccola? Appunto perché si struscia le gambe di mio padre e praticamente tutte le volte che io sento i miei su Skype, lei prende possesso del mio letto e quindi io la vedo nell'angolo sul mio letto, dico con la zoccola che sta sul mio letto ed è lì che mi guarda così sorgnona, che dice, ne sei andata, adesso è il letto di un uomo mio, quindi non so se è più felice quando vengo quando mi ne vado, che così vado in mezzo al mio letto. Che parola riconosce? Vabbè, riconosce fuori, andiamo fuori, andiamo... Pa, pa, papà, dov'è papà? Però come tutti i cani è un po' terrorizzata anche dai bambini, perché i bambini, sapete, non hanno i modi molto delicati quando vedono i cagnolini, lei è piccolina, quindi anche se è una grandicella, per piccolina di razza e quindi pensano sempre che sia un cucciolo e gli fanno male, involontariamente i bambini fanno male gli animali e quindi lei è molto delicata, non sopportare i bambini, ma anche i cani che avevo prima non sopportare i bambini, quando vedevo un bambino si nascondeva. E niente, questo è un piccolo breve video con la mia Rosy, e niente, noi ci vediamo prossimamente quando torno a Milano con gli altri video. Ti faccio salutare dalla zoccola, ciao! Ciao!